Ecco qua, il nostro velo illumina, l'abbiamo fatto stamattina, la signora sospira, la sospiriamo tutti, però alla fine il risultato c'è, abbiamo una sfumatura, la signora da un anno e mezzo che viene, mi dì che era con un sospiro di scaricamento, abbiamo finito 5 ore di grande lavoro. Ebbè, ma se no c'è tanti capelli, c'è un magno di ricci, però sono stupendi, stupendi, com'è la sensazione? Bellissima, sono un colore molto luminoso, bello, mi piacciono le tonalità, cioè come se fossero naturali, quindi c'è questi chiavi scuri mischiati che sono fantastici, che si notano muovendo il capello, si nota tantissimo. Ma perché gioco, non è perché vuole il gioco dei capelli, un bellissimo gioco di colore. Un bellissimo gioco, il cliente è contento perché ha il suo colore personalizzato, è molto importante avere il colore personalizzato. La prossima volta vi facciamo anche a Sofia, bravissima da Sofia, anche a Sofia, anche a Sofia, anche al carico. Però, cappello crespo, ovviamente, ma abbiamo schiarito, non più, fortunatamente grazie ai prodotti, da quando viene da me, giusto cara? Eh, perché io non uso molto 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 meno, molto molto molto, si veramente, meno male perché noi non usiamo, ripeto, dei prodotti aggressivi, usiamo prodotti dolci, soprattutto quando dobbiamo schiarire, schiarire, ma noi schiariamo dolcemente, con dei schiarenti che fanno tonno su tonno, il capello rimane, soprattutto chi ha i capelli crespi, non si rompono e diventano sempre belli naturali. Non so se vedi che sono ricce, non so se vedi che sono riccissima, però si sono fonate anche veloci, 10 minuti, cosa che un cappello riccio così crespo si fa fatica, fate i bicipiti per la merita, fa niente, fate i muscoli amore mio, io lo guardo in palestra perché devo fare presto, va bene, grazie.